Salve, volevo sapere una cosa, da quanto è che... Aspetta, se stai facendo il video, purtroppo che mi sistemo... No, 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 deve essere naturale, ti vado a fare una domanda, da quanto è che hai ripannata? Da quanto è che... Eh, praticamente forse da più di dieci giorni. Bene, in quanto te l'ho recuperato? Mezza giornata? Eh, praticamente forse pure in mezz'ora. Grandi! Grandi, sono felicissimo, felicissimo. Comunque anche io veramente complimenti. Bene, sono felice veramente. Bacione. Meriti. Buongiorno! Come va? Tutto bene, grazie. Sono molto contento. Da quanto è che hai ripannato? Non ho parole. Cioè, non ci speravo troppo, nel senso sì, ci speravo, però ho detto, boh, chissà se riuscirò, insomma. Oh sì. Quindi veramente grazie mille. Sono felice. Da quanto è che hai ribannato? Eeeh, beh, più o meno due settimane, non tanto. In realtà ce le siamo cavate con poco, sì. Tipo dieci giorni, lo possibile? Sì, dieci giorni, meno di due settimane. Grande, felicissimo. Salve, come va? Ce l'abbiamo fatta finalmente. Yeah! Da quanto è che hai ribannato? Eeeh, mi pare due settimane, però da quando abbiamo iniziato il nostro lavoro, neanche dieci giorni, otto, nove giorni. Grande! Eeeh, dimmi la verità, avevi perso un po' la speranza, vero? No, perché comunque guardavo il tuo profilo e comunque vedevo che tanta gente riusciva a riprendere il profilo, quindi non ho perso la speranza. Quindi ho continuato tante email, tantissime email, però ce l'abbiamo fatta. Eeeh, dimmi la verità, non ho perso 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 la verità. Grazie.